Scoppia la polemica in vista del Marri Crio Music Fest che prenderà il via il prossimo 2 settembre e durante il quale si esibirà anche il cantante Paolo Belli. Un ospite su cui il nisseno Michele Giarratana ha delle riserve, in particolare su una dichiarazione che l'artista Emiliano rilasciò alcuni anni addietro, affermando che in occasione di una partita della Nazionale Cantanti, disputatasi a Pian del Lago nel 1994, il pullman della squadra venne bersagliato da una sassaiola. Mi viene in mente, una ventina di anni fa, se non erro, siamo andati a giocare a Palermo per aiutare Rita Borsellino, siamo andati assieme a Don Ciotti e mi ricordo che andammo a giocare una partita a Caltanissetta e ricordo che ci trarono i sassi contro il pullman, non volevano che noi scendessimo dal pullman. Perché? Perché sappiamo che esiste una parte d'Italia di persone per bene, ma sappiamo che esiste anche una parte d'Italia che non sono persone per bene. Ecco, io credo che il dovere della Nazionale Cantante sia anche quello di portare ai ragazzi, come quello che poi cercheremo di fare domani, di far vedere che si può portare questa parola pace in mille sfaccettature, soprattutto a sostenerse, essere al fianco delle persone, far vedere che noi abbiamo pura, tant'è vero che quando eravamo chiusi dentro al pullman, mi raccontarono che dentro c'erano persone che con i metal detector andavano a controllare gli armadietti degli spogliatoi, ma noi non abbiamo avuto paura. Ci hanno solo detto di attendere e poi siamo andati, perché bisogna difendere il proprio credo e noi crediamo proprio in questa nostra missione, perdonate se lo dico, ma forse è una parola troppo grossa, però il nostro credo è quello di portare pace. E mi piace pensare che domani il mio mandato cominci proprio da una partita che si intitola in campo per il futuro. Dichiarazione che per Giarratana non corrisponde al vero e che rappresenta, a dire del professionista, uno sfregio alla città. Per Giarratana sarebbe inopportuno far esibire Paolo Belli come protagonista dell'evento. Il professionista nisseno ha ricordato anche di essere stato in campo in quella partita che vide la Nazionale Cantanti contro una formazione mista di ingegneri magistrati e componenti dell'Associazione Antimafia Libera, affermando con forza che si trattò di una giornata di festa e smentendo che fosse avvenuto un lancio di sassi.